Fashion Music TV Bene, ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Fashion Music TV Antico Domingo in mia grandissima compagnia Mike Atom DJ Benvenuti Benissimo, questo è l'appuntamento del venerdì con Mazzum Tecnolab Siamo contenti, devo dire che è stata una settimana intensa Siamo contenti delle vostre visualizzazioni Grazie a tutti ragazzi, iscrivetevi al canale, grazie Oggi pomeriggio con Mike Atom abbiamo deciso di farvi sfruttare qualcosa di veramente bello Sono partito aggressivo subito proprio Perciò non spaventatevi Mazzum Tecnolab Fashion Music TV Siamo partiti alla grande Caro Domingo ti presento Climb Una mia produzione Da Mazzum Tecnolab Vedete, questa è una sorpresa che mi ha fatto Non l'ho ancora sentito Questo è veramente un pezzo che quest'estate sentirete in tanti danceflo Molto bella la risposta della cassa Dopo ti dico una cosa Mi stupisce sempre questo ragazzo È veramente bravo Usa suoni industriali Posso dirlo? La parola industrial, techno E' la parola giusta Dopo te la faccio io una sorpresa Abbiamo la nostra modella Fashion TV Fashion Music TV È una storia lunga questa È bello quando gli altri dirigenti suonano questo brano Dici guarda il mio brano come gira Vedi ho messo le stelle Questo per me di girare Guarda Ormai le stelle del firmamento I nostri brani stanno diventando veramente Ascoltatissimi Mi piace questo sito e gran piano Devo dire che hai fatto un ottimo lavoro Hai fatto un connubio anche con questi suoni Che sono molto duri È un po' anche la scuola del gatto Noi sappiamo perché Fashion Music TV Hai visto che paesaggi che abbiamo oggi Oltre alla bella musica abbiamo delle belle immagini Ecco questo è veramente stato un grande brano in sorpresa Come diciamo noi Grazie Spero che ti sia piaciuto E adesso cosa sta arrivando? Adesso ti presento Sono Keep Control Keep Control Nuovo Renix In Melody Tecno Bello, bello Art Bud Quando arriva quel suono Pa 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 Te l'ho portato perché sapevo che ti piace Grazie Mike Atom Dopo voglio far ballare la nostra modella Fashion Music TV La nostra Fashion Girl Abbiamo la Fashion Girl ragazzi Fra un po' ve la presento Anzi si presenterà da sola perché È una Fashion Girl Grazie a tutti Questo è proprio minimale. Vedo la nostra modella che si sta preparando. Mamma mia che bella. La presentala dai. Allora amici ho il piacere di presentarvi la Fashion Model Girl. Lasciamo entrare Camilla. Ciao Camilla. Ciao Camilla. Eccola qua. Benvenuta. Benvenuta. Benvenuta a tutti ragazzi. Come va? Come la va? Avvicinati bene al microfono. Bene bene grazie. Guardate la bellezza di questo abito, di questo viso che mi ricorda il tempo delle mele. La Sophie Marceau ce l'ha un po'. Chissà che qualche stilista me la chiama e me la ruba. Cosa dici? Facciamo rubare la Camilla? No. Anche perché la Camilla è la nostra Fashion Girl della Amazon Tecnolab. Allora come va? Come la va? Dai facciamo due parole con la Camilla un po' timida oggi. Sì abbastanza. Però gli piace la musica tecno. Mi ha detto questa musica di Mike Atom quando io farò i miei set fotografici la userò come sottofondo. E poi cosa faremo dopo? Quando ti perderemo? Dovremmo rincorrerti in giro per le sfilate del mondo? Keep control. Questo non te lo ricordo perché tu sei giovanissimo. Questo è un pezzo che andava negli anni Mike. Quando questo? Nel 2000 esatto. Vedete alle nuove generazioni bisogna così far conoscere i nostri brani. Però ti piace questo genere? Allora quando suonerà Mike Atom lavoriamo in console. Dai gli facciamo il battesimo della console come si vuol dire. Ma è un vestitino da urlo? Voi lo vedete solo a mezzo busto ma è veramente qualcosa di spettacolare. La Camilla adesso lei avrà una sua pagina. Hai una tua pagina. Diggile amici così. Camilla Susi Trapletti. Wow. Perciò andate subito e iscrivetevi anche alla sua pagina e mettete un commento così. Su Instagram e su Facebook. E poi la troverete qui alla Mazzu Lab. Anche perché sicuramente siccome lei ama la musica mi ha già detto mi piacerebbe fare un disco con voi. E noi cosa faremo giustamente? Produrremo il disco della Camilla. Anche perché ci sa quanti maschietti dovranno ballare. Adesso ti metto un disco Mike Atom. Ho visto Camilla che belli sfondi che abbiamo. Abbiamo aggiunto un'altra stella al firmamento Mazzu Tecola Lab. La Camilla. Caro Domingo questo è il tuo amico Matan Caspi. È uno famoso questo quello. Pensa che con lui vi vedevamo la stessa pensione. In tempi non sospetti. Vieni Camilla vedi noi scherziamo però la base è molto, hai capito, tecnologica. Noi ironizziamo anche perché vogliamo far conoscere un po' a tutti la Melodic Tecno. Allora la Melodic Tecno sarebbe come quando metti sul panettone un po' di zucchero a velo. addolcisci ancora di più quello che è il sapore. Bene, salutiamola Camilla. Saluta tutti gli amici. Come sai fare tu? Ciao a tutti ragazzi. Mi raccomando iscrivetevi al canale. Oh, un applauso alla Camilla. Grazie. Ciao, a presto. Che bella sorpresa, hai visto? Sì, sì, molto bella. La Fashion Model TV. La Fashion Girl. La Fashion Girl. Bene, caro Domingo, torniamo a parlare di musica. Spero che ti piaccia anche questo brano. Questo è proprio melodico. Ragazzi, iscrivetevi al canale Fashion Music TV. Questo è Mazzum Tecno Lab, venerdì sera. Apriamo il weekend. Bella pescata, anche questo disco mi piace. Pausa meditazione. Fashion Music TV. Ci vuole un gin tonic quando arrivano queste pause. Caro Mike, avremo anche il disco storico. Cosa dici? Cosa ci hai portato? Ho portato una chicca oggi. Hai portato una chicca, wow. Mi stanno scrivendo che il disco storia piace. Tanti brani non se li ricordavano. Fa piacere che gli amici ci facciano questi complimenti, anche perché Fashion Music TV sta avendo il suo successo, anche perché la musica che proponiamo è la musica della nostra storia. Con i prodotti nuovi cerchiamo di aggiungere qualcosa in più a quello che è il mondo della notte. Mike Aton. Grazie. Grazie. Cosa arriva adesso, Mike? Direttamente da Buenos Aires. Brigado. Qui siamo al di là dell'oceano. Praticamente i cugini dell'America, delle Americhe. Esatto. Wow. Rocking It. Questo è latte. Mi ricorda le Maracas di Maracas, il disco di Mike Aton. E devo farvi complimenti perché so che stai così raggiungendo. Disponendo un bel successo, grazie. Eh sì, ci sono delle ottime recensioni su questo disco. Ascoltatelo amici, Maracas, Mike Aton. Qui c'è un ritorno, il famoso respiro del suono. Ti vedo già, Mike, sulle piste, infuocate. Stiamo preparando di quei sette, domingo. Le ghiacciai in fiamme e la fuga del cavallo morto. Il coltello senza lama e senza manico. Mi ha flashato la voce. Anche perché saremo in tv in tutto il mondo. Abbiamo il canale satellitare. Ci vedranno anche in Giappone. Mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Hai visto che bella sorpresa che ti ho fatto, eh? Ma torna ancora o basta? Nella prossima puntata, a venerdì prossimo, l'avremo ancora ospite. Allora, Carlo Domingo, adesso ti metto una chicca, veramente. Qualche annetto, ah? Ma è bellissimo. E adesso ti spiego chi sono. Prima te lo metto. Ma è bellissima puntata, a venerdì prossima. Ma è bellissima puntata, a venerdì prossima puntata. Ma è bellissima puntata, a venerdì prossima puntata. Vedo, di là dello schermo, che ci sono in regia, già con le mani al cielo. Salutiamo Walter. Ciao Walter. Benvenuto. Il nostro tecnico del suono. Presento questo pezzone, sono i Gus Gus. Un remix di Maceo Plex, il nostro statunitense. Maceo, Maceo. E loro sono un gruppo islandese, pensa che hanno... Sono famosi per i video cinematografici e si sono andati alla musica elettronica. Ottima scelta. E hanno all'attivo dieci album. Che arrivano dall'Islanda. Senti che voce. Quindi crossfade, Gus Gus. Ultimamente ho scoperto che Atlantide partiva dall'Islanda e arrivava in Groenlandia. Mi ha fatto una scoperta sensazionale. Praticamente una volta non c'erano i ghiacci. Vedi, queste origini, queste sonorità riaffiorano. Fashion Music TV Super. Un po' di Q2. Multiplicazione. Un po' di Q2. Un po' di Q2. Un po' di Q2. Un po' di Q3. Un po' di Q2. ti metterei anche la pausa però veramente questo disco è troppo lungo no sai cosa crea un'enfasi ti lascia sempre lì però è la melodia che c'è sotto che resta in mente adesso come al solito divento più aggressivo questa la chiamerei Vocal Melodic Tector te lo sfumo questo sfuma sfuma ok questo arriva dalla Romania Autochton Record T78 questi sono i boleri e qui ci vuole uno che sa ballare la tarantella una taranta questa e qui non sai mai come mixarlo dici lo stacco o gli metto il bolero però allegro dai questo si chiama Riot mi ricordo i tempi dell'acqua c'era un pezzo che andava con questa ritmica ci va dentro come una corna musa e qui ci vuole Mamma mia, mamma mia, quando Mike Hatton stacca così, i vicini bussano la porta. Mi raccomando, iscrivetevi alla pagina Fashion Music TV e mettete anche un bel mi piace alla Mazzum Tecnolab. Questo è il nostro caro amico Umec, Swift Punishing. Ti piace la musica che ti ho portato fino adesso? Sono eccitatissimo. Le stelle più brillanti del cielo, la Mazzum Lab, Tecnolab. Questo venerdì veramente spettacolare, queste immagini che scorrono così dietro di noi ci fanno ricordare che il tempo scorre. Siamo arrivati quasi al disco Storia. E ci vedete, infatti. Bravo. Grande Mike Hatton. Eccolo qua. La cassa subito davanti. Ladies and gentlemen. Nostromos, the message. E' una galoppata questa, eh? Andiamo tutti a cavallo. Io sono un amante del cavallo. Sai che ne ho cinque? Li ho lasciati liberi, però... Li ho comperati, poi li ho lasciati andare nella pampa. Chissà se mi riconosceranno tra un paio di anni quando andrò e vedrò i miei nipoti. Veramente, veramente potente questo. Devo, devo dire una cosa. Ha chiamato Sven. Ha detto che ti sta guardando da Ibiza e dice che Mike Hatton è anche bello. Saluto Sven. Hi Sven. Thank you so much. La settimana prossima mettiamo un pezzo del grande Sven. Metteremo nel disco Storia. Fashion Music TV. This is the message I've been to you. I've missed the music that is... It's true. Veramente è una guerra atomica questa. Allora, caro Domingo, il prossimo disco, prima dello storico, ti vado a presentare un italianissimo. E stiamo parlando di Enrico Sangiuliano. Sangiuliano? Grande DJ producer. Di dov'è questo ragazzo? E lui è Emiliano. Che pensa che nel 2019 ha vinto il DJ Awards come miglior produttore, come miglior producer. Complimenti. Produce con Adam Bayer. Ah, però uno così a caso. Sì, giusto a caso. E gira tutto il mondo. Per me gli ha fatto assaggiare Sangiovese e Piadina e si sono piaciuti a vicenda. Ah, ti metto il soprano. Onore, onore all'Emilia, all'Emilia Romagna. Allora, vedete, quando si mangia bene, si beve bene, si fa anche la musica bella. Mamma mia, senti che cassa. Sembrano tutte uguali le casse, ma non è vero. Ci sono le casse gommose, le casse così più dure. Questo è un cartonato. Questo è il famoso cartonato pressato. Il famoso panforte delle casse. Blooming era. Ovviamente etichetta drum code. Adam Bayer. Sai che andavamo in campeggio insieme io, Adam Bayer? Mi rubava sempre le bombole del gas. Che diceva che doveva spingere di più. Grande, grande Mike Atton che sta preparando il disco storia. Siamo pronti. Sempre il suono dell'ascensore quando c'è qualcosa che non va. Dici, ma è sicuro salire fino al decimo con questo suono? Piena solidarietà a chi abita a 110. Special New York. Ma te lo vedi? Ti vedi la pista che si muove tutta a tempo? Ok, allora Domingo adesso andiamo a presentarti il disco storia. Il disco storia. Vai, stacchiamolo così. Ciao amici. Vi salutiamo sulle note del disco storia di questa sera presentato da Mike Atton. 1992, Olanda. Vedi, questo era il mio campanello di casa. Sai il postino quando ti porta la raccomandata di notifica della multa? Dice questo non la pagherà mai. Grazie per essere stati con noi. Buon venerdì, buon weekend a tutti ragazzi. Ci vediamo la settimana prossima. Antico domingo. Mike Atton. Mike Atton. Ciao e grazie. Buon weekend. Ciao.